Ciao ragazzi, allora oggi vi faccio vedere un libro veramente interessante in questa rubrica dedicata ai libri che ha avuto molto successo e questo mi fa molto piacere ovviamente, ed è un libro che veramente ogni fotografo ritrattista deve avere assolutamente nella sua libreria perché è in italiano, è ben fatto e vi spiega soprattutto, a parte il titolo che forse è un po' esagerato, la guida definitiva alla posa fotografica, ok? È un libro di Lindsay Adler che se non la conoscete ormai è diventata una delle fotografe più famose al mondo, fa penso sia ambassador della Canon, di Profoto, roba del genere, comunque lei ormai è lanciatissima nel mondo fotografico, fa un sacco di guide, un sacco di libri e questo, devo dire la verità, è uno dei libri veramente più belli che sicuramente che ha scritto lei e più belli che potete comprare in assoluto perché? Qual è il problema chiave? Il problema chiave è sempre che quando avete di fronte una modella, un modello, insomma una persona che deve posare, spesso e volentieri se non si è, se la persona non è una modella, modello professionista, insomma non è una persona che sa già posare di suo, ma è una persona che è di bella, è di bell'aspetto e voi volete fare un servizio fotografico a questa persona oppure anche, che ne so, siete davanti a un matrimonio, siete a fare una sessione di ritratto pagato per una persona, quindi le più svariate occasioni in cui avete di fronte una persona che non sa posare, beh, è fondamentale per il fotografo sapere come far posare la persona perché altrimenti rischiamo di saper produrre luci bellissime, avere obiettivi esageratamente belli e poi alla fine la posa manca un pochino e quindi cosa succede? Che non viene bella la foto. Proprio per questo è uscito questo libro, ce n'è un altro sulla posa fotografica che è un po' più avanzato, diciamo, che di Roberto Valenzuela, lo spiegherò in uno dei prossimi video, soprattutto in inglese. Questo ha il grandissimo vantaggio di essere in italiano, ok? La guida definitiva alla posa fotografica è un libro che ha parecchie pagine, è fatto bene, la carta è lucida e vi insegna come fare delle foto, cioè come mettere in posa modelli maschi, modelle femmine, insomma, vediamo di scorrere rapidissimamente i capitoli. Allora, prima di tutto una cosa che mi è stata chiesta nelle scorse puntate è segnalare quanto sono grandi i caratteri. In questo caso i caratteri sono abbastanza grandi, si legge abbastanza bene, a vedere così sarà un carattere 11, 12, poi non lo so, però più o meno quello. Vediamo quali sono i capitoli. Allora, il capitolo 1 è la posa e il punto di vista della fotocamera, quindi è un capitolo abbastanza generico, niente di che vi fa capire quanto è importante il posizionamento della modella del modello, insomma, quello vabbè, è un capitolo introduttivo, infatti di poche pagine alla fine. Passiamo alla parte subito interessante. Capitolo 2, mettere in posa e dirigere il viso, quindi vi spiega un po' di cose sul viso, ad esempio come deve essere posto il collo, dirigere con le parole, come devono essere gli occhi, cioè non come devono essere gli occhi, ma occhi al fotografo da un'altra parte, eccetera. Però anche questo capitolo abbastanza generico, che pian piano vi introduce sempre di più. Quelli veramente interessanti, cioè secondo me la parte interessante del libro comincia veramente solo nel capitolo 3, che si intitola Le insidie della posa. Allora, Le insidie della posa è un capitolo bellissimo perché vi fa capire quali sono quelle cose a cui noi tipicamente, se non siamo abituati, non facciamo caso, che sono problematiche dal punto di vista della posa. Ad esempio la cattiva postura, l'accorciamento. L'accorciamento, per intenderci, è questo, cioè quando una modella o un modello sta con, classica non lo so, la mano qua, così, e il gomito che è proteso verso il fotografo. Non è bello da vedere, effettivamente, guardate quante foto ci sono fatte così, non è mai bello avere un gomito proteso in avanti, un ginocchio proteso in avanti, quindi bisogna sempre fare attenzione e magari girare il tutto in maniera tale che stia laterale, d'accordo? E non frontale. Poi c'è il problema delle fusioni. Le fusioni sono quando non ci sono degli spazi, perché il bello della posa è quando riusciamo a fare una posa armoniosa in cui ci siano un'alternanza di pieni e vuoti. La fusione è quando, ad esempio, immaginate la persona con le braccia attaccate ai fianchi. Sembra più grossa, più grassa, permettetemi il termine, quindi è più ingombrante nell'inquadratura una persona con le mani lungo i fianchi. E qua vi spiega quali sono le problematiche, cioè la fusione non è solo quella, ci sono tante altre. Vi spiega, vi fa vedere un po' come risolvere anche questa cosa. Le mani posizionate male, di nuovo, problema che esteticamente, ad esempio, bisognerebbe sempre cercare di non avere mai il lato del pollice davanti, ma avere sempre quello col mignolo, perché è molto più delicato. Vedete come, se io appoggio la mano qua così, è molto più delicato che non una roba del genere. Adesso vabbè, sto esagerando, però non è mai bello avere il pollice davanti, insomma, una roba così. Ad esempio, sempre il mignolo, ma questo è uno dei tanti consigli che vi dà. Espressioni poco gradevoli e poi c'è un capitoletto, il capitoletto 4, i dieci passi della posa di successo delle varianti di posa, quindi vi dà degli step da seguire che, se vi piacciono, li potete seguire, se no, insomma, gli step sono sempre una cosa che, quando la leggete dite, uh, fighissimo, poi in realtà nella vita normale non li applicate gli step, però sono importanti a livello logico, quindi è importante comunque leggerli una volta. E poi si passa al capitolo 5, 6, 7, 8, anticosi, che sono dedicati unicamente a una tipologia di fotografia. Ad esempio, capitolo 5, posa di soggetti femminili. Ad esempio, soggetti femminili, sapete, bisogna cercare la classica posa, quella in cui c'è la S, quella in cui, insomma, la modella deve sembrare più flessuosa possibile. Fesice flessuosa? Può essere, sì. Comunque, mi avete capito. Piegate, incurvate, eccetera. Posa di soggetti maschili. Il soggetto maschile deve essere potente tipicamente, no? Quindi i consigli che si danno per la posa femminile non sempre funzionano sul soggetto maschile. Anzi, spesso e volentieri no, perché lo fanno diventare troppo delicato, mentre invece deve essere un po' più possente la posa maschile. Ed è un capitolo che manca da tantissime parti, perché quasi sempre il 99% delle cose si dedica alla posa femminile, per carità, perché il corpo femminile probabilmente è più gradevole alla vista, è anche più complesso da far posare. Il corpo maschile deve essere possente alla fine e quindi, però, è importante anche questo capitolo. Anzi, è molto molto interessante. Pose di coppia, difficilissime, capitolo 7. Pose di coppia, è molto complesso avere una coppia ben equilibrata, insomma, una coppia che sia gradevole alla vista. Ed è importantissimo, se ad esempio imparate, dovete fare dei matrimoni, eccetera. I classici due sposi frontali così, capite subito che non sono bellissimi. Cercare, vi dà dei consigli su come cercare di ottenere dell'intimità tra le due persone, che sono già intime probabilmente in uno scatto di coppia, però cercare di portarla fuori verso la fotografia. 8. Un capitolo interessante che si chiama Curve, ovvero per le modelle più formose. Quando avete a che fare con modelle più formose, ovviamente può capitare, assolutamente, vi dà dei consigli su come cercare di renderle più... cioè, snellirle, perché ovviamente anche loro sanno perfettamente le loro forme, quindi non si aspetteranno di uscire come Cindy Crawford, ma, ovviamente, se voi riuscite a renderle un po' più fini, la modella ovviamente ringrazia, ok? Ritratti di famiglia, capitolo 9. Ritratti di famiglia valgono un po' le cose relative alla posa di coppia, ma si aggiunge qualche elemento, quindi comunque sono ritratti posati di gruppo. E c'è la classica posa, quella dei triangoli, adesso ve la faccio vedere, così vi faccio anche vedere qualche pagina, a parte che dopo magari ve ne faccio vedere qualcuno di più, anche se non voglio dilungarmi troppo, però c'è il classico esempio dei triangoli, ok, perfetto, ad esempio, spero si veda, questa foto qua, vedete, comincia a far posare la figlia con la nonna, poi aggiunge la madre lì a formare il triangolo e c'è questa bella foto che, spero che il riflesso, ho, sti libri super lucidi, forse non sono il massimo per mostrarli in un video. Comunque, la classica posa triangolo e poi in generale consiglio di creare tanti triangoli, come ad esempio potete vedere qua in una posa di super gruppo, quindi una posa in cui ci sono tante persone, d'accordo? E' importante creare tutta una serie di triangoli, vi insegna come farlo ed è assolutamente una cosa interessantissima. Dopo quello c'è il capitolo 10, boudoir, quindi quando la donna è al massimo proprio della sensualità, vi spiega alcune cose su come ottenere ancora più sensualità rispetto allo scatto posato femminile che vi ha spiegato prima, quindi diciamo che è un po' più un'esagerazione della posa che vi ha spiegato prima. Maternità, capitolo 11, quando avete a che fare con degli scatti dei ritratti di maternità, non è facile avendo il pancione e quindi qua vi dà anche dei buoni consigli su cosa fare. E poi un ultimo capitolo, capitolo 12, mettiamo insieme i pezzi, si intitola, in cui diciamo riprende un po' quello che ha detto prima con degli esempi e vi fa capire cosa sarebbe sbagliato fare, cosa invece è meglio fare, però se avete letto tutto fino all'11, il capitolo 12 non è tutta sta utilità, ok? Ora vi faccio vedere qualche pagina, lì e là, vedete si parla anche di primi piani, poi si parla di fatemi trovare qualcosa, ad esempio vi fa vedere, spesso e volentieri fa vedere questa cosa che vabbè forse si esalta un pochino l'Adler con questo, ve lo metto davanti al microfono così lo vedete anche, spero di sì, ok? L'Adler fa vedere come guarda, con un setup solo guarda quanti tipi di ritratti sono riuscita a fare, semplicemente spostando me, spostando di poco la modella, le braccia della modella, eccetera. Poi vediamo ad esempio, andiamo al capitolo sul ritratto maschile, ok? Ritratto maschile, ad esempio, fatemi vedere, ecco, anche qua stesso discorso di prima, si esalta un pochino sta donna per carità, con tutti i titoli che ha, ci mancherebbe altro, però vi fa vedere come cambiando poche cose riesce a ottenere tanti ritratti dello stesso uomo interessanti, vi spiega come fargli posare le mani, eccetera. E poi ad esempio un ritratto di coppia, ritratto di coppia, questo qua, vedete? Eh sì, no, non si vede, faccio fatica perché lo schermino è piccolo e non vedo proprio benissimo, ma va bene lo stesso, spero che mi sentiate. Comunque, la foto vicina con la piccolina è quella sbagliata perché diciamo non è proprio bellissima, invece quella vicina ha creato un contatto, ha creato un'emozione tra le due persone, e vi spiega come ottenere questo tipo di scatti, e poi ad esempio scatti di persone formose, vediamo anche questo, uno in cui ci sia un po' più di materiale, che non siano solo esempi ben fatti, ecco ad esempio una roba del genere, no? Ad esempio questi due esempi qua, l'esempio sbagliato, l'esempio corretto, ovviamente, è un libro che è interessantissimo, secondo me, perché ha tanti, ecco, boudoir, vedete, capite quando intendo esagerare le forme del corpo femminile, si esagera veramente, questa non è una posa naturale in cui sta una donna, è ovviamente fatta per ottenere più sensualità, d'accordo? E ecco, guardate, il classico esempio di, magari, il fotografo alle prime arbi che c'ha davanti una a fare foto boudoir, perché gli piace questo genere, e per carità trovate una modella che gliele fa fare, se lei non gli dice niente, lei magari si mette così, che non è il massimo, se invece le fai aprire il braccio qua, quindi che le fai creare questo spazio vuoto, questa mano la porti su, la porti lì, diventa più bello, per carità l'altro non è sbagliato, però è meno sensuale, d'accordo? avanti così, e basta, scatti di maternità, ok? Prova del genere, e infine gli mettiamo insieme i punti, gli mettiamo insieme tutte le cose, vi fa un po' di esempi, ad esempio, prendiamo, prendiamo questo, ad esempio, sì, c'è una bella ragazza che è molto magra, allora vi fa vedere, dice, ma lei è molto magra, abbiamo questi problemi, facciamo che creare i classici triangoli, e quindi vi crea queste forme qua, insomma, adesso non sto a farvi vedere tutto, ma l'ultima foto è effettivamente molto molto bella, wow, no, di qua, devo sempre pensare che se vado a sinistra va da destra, se vado a destra va da sinistra, ok? Quindi, bellissimo libro che consiglio assolutamente a qualsiasi fotografo ritrattista, costicchia, costicchia al suo, perché costa sui 40 euro, non è esattamente poco, però, se siete ritrattisti, l'arte del posing è fondamentale, e questo al momento penso sia, se non è l'unico libro in italiano, è quantomeno quello in italiano più bello che ho trovato, a parte che io in italiano altri non ne ho trovati, ne ho trovato uno in inglese, molto bello, di Roberto Valenzuela, ma è in inglese, quindi per tanti è anche più complesso, quindi è in italiano, è molto bello, tutti quelli a cui l'ho consigliato tutti, dal primo all'ultimo, si sono detti estremamente soddisfatti dell'acquisto, perché anche se poi, a distanza di un anno da quando l'avete letto, non sapete più esattamente tutte le cose, come ad esempio anch'io, ovvio l'ho letto un po' di tempo fa, non è che mi ricordo esattamente tutto, però, diciamo che i concetti base vi rimangono, che sono la parte più importante, ad esempio l'accorciamento, ad esempio la fusione, quindi il braccio lungo il corpo, evitare cose del genere, che a quel punto ci fate estremamente caso, d'accordo? E niente, detto ciò, un libro bellissimo, se siete ritrattisti va assolutamente comprato, a mio parere, se volete, c'è il link qua sotto nella descrizione, il link ad Amazon, se comprate tramite il link mi arriva anche una piccolissima percentuale, che lo ammetto mi fa anche piacere, se no, se lo volete comprare in libreria, assolutamente, bisogna sempre spingere perché le librerie continuino a vivere, e basta, detto ciò, ci vediamo al prossimo appuntamento, la EOS R non è ancora arrivata, arriverà penso a fine settimana, vi aggiorno comunque, buona serata a tutti, ciao!